Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Come sempre io sono Max, sempre per chi non mi conoscesse, altrimenti ci intrufoliamo subito nella news del Grande Fratello VIP, dove per Antonella Fiordelisi sembra proprio non esserci pace, perché arriva l'attacco diretto di Milena Miconi. Nelle scorse ore infatti Antonella ha preso una decisione molto sofferta, cioè ha detto addio, ma l'ha fatta in maniera definitiva a Edoardo Donnamaria. Insomma, ha messo il punto alla situazione. Le ragioni sono venute fuori poi nel corso di un confronto che i due hanno avuto subito dopo la puntata, dicendo non è solo ciò che ha successo in puntata, ma varie cose che non mi piacciono di te. E io non riesco proprio ad accettarle. E lo faccio anche per te. Uno dei due deve essere coraggioso e prendere la decisione di essere single e fare questo percorso da soli da ora in avanti. Ho creduto in una cosa che non era quella. Non mi lascerò più andare con nessun uomo. Tu però stai attento e sappi che i tuoi amici, mi hanno votata. I veri amici non vogliono cacciare la fidanzata di un loro amico. Poi c'è chi parla di amore libero. È sposata e va con chi vuole. Poi chi va con uno e poi un altro. Io cerco amore e rispetto e un ragazzo che mi ami. E ancora, comunque è finita perché non avrebbe senso andare avanti. Perché in primis non voglio stare male come sono stata fino ad adesso. All'inizio non mi facevi stare male e poi sei cambiato. Pensavo di aver trovato un amore vero, quello dei film come Romeo e Giulietta o il Titanic. Come se non bastasse Antonella è finita in nomination. A condannarla, anche Milena Micon che, incalzata da Nikita sul motivo che l'ha spinta a votare Fiordelisi, ha spiegato come dovrebbe migliorare alcuni aspetti del suo carattere, in quanto determinate insinuazioni nei confronti di un partner, possono realmente ferire. Insomma, un voto che Antonella si sarebbe meritata dopo il duro faccia a faccia con Edoardo durante la puntata. Accuse ad Antonella non sono arrivate solo da Miconi, ma anche da Alberto De Pisis che ha usato Tony Netti. Antonella perché sono tante le incongruenze che ho visto nei confronti di Edoardo questa settimana. Tu sai benissimo, ma lo sanno tutti, quanto io sia stato fin dall'inizio un sostenitore della coppia. Penso però che sono passati 140 giorni e nell'ultima settimana sei esagerata. Non tanto nel come vi interfacciate tra di voi, ma nelle incongruenze e tante volte nell'autovittimizzarti. Te l'ho già detto.